La stampa 3D a scuola. Video numero 2. Dal progetto 3D al file di stampa. Dopo aver terminato il progetto, dobbiamo adattarlo alla stampante che abbiamo a disposizione. A scuola abbiamo Sharebot One, che è un modello di stampante molto diffuso in ambito scolastico. Quindi andiamo sul sito di Sharebot e in supporto tecnico download troveremo una guida rapida con alcune istruzioni per l'uso, ma soprattutto Sharebot Continuum, che solo per la prima volta dovremo scaricare. Ci sono anche altre modalità per stampare, ma in questo video vedremo la stampa 3D tramite questa applicazione. Sharebot Continuum permette di passare dal progetto in 3D al file di stampa in maniera semplice e veloce. Nello stesso tempo è possibile configurare e gestire parametri di stampa anche più avanzati. Una volta scaricato e installato il programma, che ripeto è necessario fare solo la prima volta, occorre aprirlo e dalla cartella File si va a cercare il file del progetto in formato STL che abbiamo precedentemente creato. I file STL hanno questa icona caratteristica e saranno quindi facilmente riconoscibili. Ecco qua il progetto, in questo caso è una lettera dell'alfabeto, lo posso spostare e sistemare sul quadrato di stampa. A questo punto gli strumenti che ci serviranno saranno essenzialmente questi tre in alto. Il primo serve semplicemente per spostare il nostro oggetto. Quindi catturo l'oggetto, lo sposto, attraverso il tasto destro controllo da tutte le prospettive assicurandomi che l'oggetto sia ben appoggiato sul fondo del quadrato di stampa. Con il tasto sinistro invece lo sposto, lo sistemo nel campo di lavoro. Con il secondo tasto invece posso andare a modificare le misure dell'oggetto che saranno poi quelle effettive di stampa. Se voglio ridurre o ingrandire il mio progetto in scala, lascio plegata l'opzione corrispondente. In questo caso però io voglio dare delle misure personalizzate, quindi vado a togliere la spunta. Per le lettere che ho stampato ho impostato l'asse X di 60 mm, l'asse Y di 90 mm e lo spessore, l'asse Z, di 3 mm. A questo punto ho impostato le misure effettive e con il primo tasto posso di nuovo andare a spostare il mio oggetto sistemandolo sul piano. Posso anche eventualmente aggiungere un'altra lettera dell'alfabeto oppure un altro oggetto da stampare. Per esempio qui abbiamo creato dei piccoli portachiavi con le iniziali dei nomi e quindi ne abbiamo stampati addirittura 9 contemporaneamente. Quindi, riassumendo, rivediamo i tre tasti che ci possono servire. Con il primo spostiamo, con il secondo modifichiamo le dimensioni, con il terzo invece potremo ruotare l'oggetto sui tre assi in questa maniera, selezionando l'asse che ci interessa. I parametri di stampa sulla destra sono preimpostati e quindi non andrei a modificarli. Al termine del lavoro, cliccheremo su Prepara, in basso a destra, il file verrà elaborato e verrà calcolato il tempo di stampa necessario per completare l'oggetto. In questo caso sono 54 minuti. L'ultima cosa da fare è salvare il file su una chiavetta USB, dove magari precedentemente ci saremo creati una cartella stampa 3D, una cartella apposta. Il nostro progetto ora è pronto per la stampa. Si trova nella chiavetta USB. Non vede l'ora di venire alla luce davanti ai nostri occhi stupefatti e meravigliati.